Si è parlato di mobilità sostenibile e di una città sempre più vicina al concetto, una nuova visione che punti sempre attraverso una serie di azioni a migliorare la vivibilità e la condivisione degli spazi in armonia con l'ambiente e le necessità del cittadino. Ed è stato questo il tema centrale di Foggia Sostenibile, la mobilità in ottica smart city, un confronto che si è tenuto all'altro Cinema Cicolella alla presenza di rappresentanti di numerose associazioni. Lo spirito è quello di rivoluzionare tutto quello che la città è stata finora. Dal punto di vista della mobilità la nostra rivoluzione sarà nella direzione della sostenibilità. Quindi attueremo degli interventi di cambiamento radicale, punteremo sulle BRT, cioè sui bus a rapido transito, corsie riservate per i bus, bus elettrici con tempi di percorrenza ridotti, con una nuova idea di mobilità all'interno della città. Proposte programmatiche illustrate per una Foggia che viene immaginata da qui a poco più attrattiva sotto tutti i punti di vista. Una città che vive diverse problematiche e criticità a partire proprio dalla mancanza di servizi e soprattutto di lavoro. Una città che cerca delle risposte ma anche e soprattutto delle programmazioni che possono essere attuate. Il mio giudizio non può che essere di parte. Ecco, sento un'atmosfera molto positiva intorno alla mia persona. Sarà che sono l'unico, ecco, non so dire, però trovo persone per strada, tante che mi fermano e che mi vogliono stringere la mano e che vedono in me la possibilità di cambiamento. Le richieste sono sempre le solite. Fare qualcosa finalmente per rendere questa città piena di opportunità. Opportunità sostanzialmente dal punto di vista lavorativo. C'è molta preoccupazione da questo punto di vista.